6 mesi di reclusione con pena sospesa e questa la condanna inflitta ad ADC, 45 anni di Sulmona, processato con rito abbreviato dal giudice per l'udienza preliminari, Marta Sarnelli. I fatti risalgono al 31 gennaio 2020, quando l'uomo fu fermato dai carabinieri e tradotto in carcere. I militari della compagnia di Sulmona, nel corso di una perquisizione domiciliare, li trovarono in casa 13 dossi di eroina, equivalenti a circa 5 grammi, tutte accuratamente confezionate in carta alluminio, ulteriore carta alluminio uguale a quella usata per le dosi, tre bilancini di precisione e circa 360 euro in banconotti di piccolo taglio, ritenute provento dello spaccio. Secondo procure e carabinieri, la detenzione della sostanza non era strettamente finalizzata all'uso personale, ma l'attività di spaccio presso il mercato locale. L'imputato non a caso è stato pure accusato di aver ceduto almeno tre delle dose rinvenute e sequestrate. Il suo legale, Stefano Michelangelo, che riuscì a farlo rimettere in libertà subito dopo il primo lockdown, ha scelto il rito abbreviato, facendo pure notare la quantità pressoché irrisoria della sostanza stupefacente. Il giudice ha quindi condannato a sei mesi di reclusione il 45enne, tenendo conto della riduzione della pena per la scelta del rito, pena che, va ricordato, resterà sospesa.